Ma dopo un anno di guerra, dopo anzi direi nove anni di guerra, perché le radici di questo conflitto, di questa invasione sono ormai così profonde, abbiamo deciso di fare quello che proprio ieri Papa Francesco ci ha invitato a fare cose straordinarie in un tempo davvero straordinario e per questo abbiamo deciso di camminare di notte sarà un modo concreto, intanto per vincere il senso dell'impotenza e per vincerlo provando ad avvicinarci noi alle vittime a provare quel loro sentire, il freddo, il buio, la notte, la paura, l'inquietudine ecco tutti i sentimenti che quella notte condivideremo anche noi per dire ancora una volta alla politica fermate questa guerra prima che sia troppo tardi